Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani alla città di Brindisi proprio non decolla. A distanza di più di 200 giorni dall'avvio del nuovo appalto con la ditta Teorema, infatti, si registra una carenza di mezzi, così come non si dispone di una sede idonea, così come peraltro previsto nel capitolato d'appalto. E quella dove nelle prossime ore l'azienda potrebbe trasferire attrezzi e personale è stata interessata da lavori senza le dovute autorizzazioni e pergiunto in un capannone e in un'area dove nel 2022 fu riscontrata la presenza di sostanze nocive nell'ambito dell'inquinamento riscontrato nella falda. Del resto si tratta di un'area situata proprio all'interno del sito di interesse nazionale e quindi soggetta a una serie di vincoli in campo ambientale. Ma i contenziosi riguardano anche questi primi 200 giorni, visto che il Comune ha considerato come fase transitoria in barba a quanto previsto, peraltro in sede di gara e quindi agevolando ingiustamente la ditta giudicatrice dell'appalto. Teorema, infatti, ha utilizzato dei locali comunali ben oltre il termine del 31 marzo fissato dalla Giunta. E che dire poi della totale assenza di una campagna di comunicazione pur prevista nel capitolato, così come della presenza per strada dei cassonetti del vecchio gestore del servizio. Dove sono i controlli e chi deve fornire garanzie ai cittadini in relazione alla corretta esecuzione del servizio di raccolta? Sono domande a cui non vengono fornite risposte e nel frattempo la città continua ad essere attraversata da mezzi che perdono per colato, mentre le operazioni di trasferenza vengono eseguite per strada con evidenti rischi di carattere ambientale.